grazie marco grazie marco grazie a tutti ancora un altro caro saluto a tutte le persone che che sono qua dunque veniamo proprio subito al noccello della questione la gioia questo è il titolo è a proposito di gioia perché questa scelta tellerata scelta di parlare della gioia di questa difficoltà che stiamo vivendo in realtà quello che quello che mi ha spinto ci ha spinto perché poi noi facciamo una scelta abbastanza comunitaria dei temi ma poi li rivediamo insieme è proprio questo senso di difficoltà a parlare di cose positive in generale non soltanto della gioia come emozione positiva ma proprio anche di tutte le cose delle nostre qualità delle cose che ci piacciono delle cose che ci riescono cioè tutte le cose che sono difficili da dire in genere sono quelle positive mentre abbiamo meno problemi a raccontare i nostri difettualità come siamo messi male come sono messi male gli altri e lì c'è una facilità enorme mi sono sempre chiesta il motivo non ho la risposta stasera non l'ho neanche cercata però mi ha sempre colpito questo fatto di avere questa difficoltà che poi viene anche gestita diciamo così dalla nostra cultura in un certo modo ci sono alcuni modi di dire come si loda si imbroda eh oppure non dirlo perché sennò porta male dice qualcosa di bello a una persona e invece secondo me è molto importante combattere in generale gentilmente questa tendenza e sottolineare in noi negli altri proprio gli aspetti positivi allora la gioia la gioia è un'emozione ed è una delle emozioni universali ci sono alcune emozioni che sono considerate universali perché sono ehm emozioni che eh tutta l'umanità ha in comune tutti gli esseri umani ce l'hanno in comune indipendentemente da dove sono cresciuti da qual è la cultura di appartenenza ma la gioia è l'unica di queste emozioni universali che è praticamente positiva vi racconto quali sono le altre lo sappiamo quasi tutti direi perché tutti abbiamo visto forse il cartone animato inside out dove ci sono queste emozioni che vanno proprio in scena le altre sono la rabbia la paura il disgusto la tristezza quindi la gioia è l'unica cosa universale positiva che ci collega eh ed è un'emozione che la gioia che ci apre al mondo che accende la nostra creatività e è come se fosse un motore un motore della vita lo vedremo poi dopo anche un po' a livello biologico e ci spinge proprio verso il mondo c'è una 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 bella frase eh di una di una ricercatrice in psicologia dell'università di Verona che si chiama Anna Maria Meneghini eh che dice paura o rabbia ci focalizzano su un solo elemento a cui reagire quindi quando uno prova paura o rabbia si stringe la coscienza si focalizza su quella su quell'aspetto che gli ha provocato questa ehm questa emozione la gioia dice lei al contrario fa vedere la foresta anziché l'albero cioè ci apre all'esplorazione alle esperienze e questo è molto importante nella nostra vita non soltanto per un benessere interiore ma anche per esempio è molto importante anche nei nostri rapporti sociali perché chi vive più di frequente delle emozioni positive in psicologia si sa ma si sa anche nel vivere comune che ha più ha più relazioni soddisfacenti e anche un maggiore sostegno sociale è capace di tirar fuori delle competenze eh spesso in una maniera eh più più veloce più 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 positiva e più capace e la ehm la il fatto di essere una persona positiva è correlata anche alla possibilità maggiore di trovare soluzioni ai problemi come se ci fosse proprio come una spirale una spinta positiva eh che porta al miglioramento di sé per questo proprio per il fatto che la gioia pare essere collegata alla crescita interiore non sorprende di trovarla anche eh come un punto di riferimento eh in molte filosofie e in molte religioni anche diversissime eh è anche il il fondamento di una certa visione cristiana di recente anche Papa Francesco ha eh parlato del cristiano come un uomo e una donna di gioia eh nel buddismo benché sembri che eh la la l'asticella diciamo eh punti soprattutto a prendere in considerazione l'essere vivente come un essere immerso nella sofferenza in realtà ci si impegna moltissimo a proprio a definire qual è il sentiero che porta verso la gioia verso la felicità e anche gli antichi gli antichi negli scritti degli antichi filosofi greci e romani eh alla felicità la gioia si dà un grandissimo risalto eh gli antichi latini per esempio vedevano la ricerca della felicità come uno scopo importante nella vita un scopo centrale e la e la felicità era una cosa eh piena di gioia non era dettata eh dall'essere asserviti a una certa visione eh che porta verso il successo verso la fama il contrario era e la felicità era proprio mh ciò che più di vicino al bene eh poteva esserci personale e anche collettivo comune e mh e non si aveva paura di considerare la felicità e la gioia come un percorso che passava attraverso anche le difficoltà le ombre anche e e su questo torneremo anche dopo diciamo che forse quando si parla di gioia si parla di emozioni ma noi nel linguaggio della psicosintesi forse e per come vorrei trattarla questa sera possiamo parlare di più di un sentimento di gioia eh perché il sentimento rispetto alle emozioni che particolarità eh l'emozione è qualcosa di più transitorio legato è una reazione a qualcosa che ci accade eh mentre il sentimento è uno stato che perdura di più a lungo molto a lungo si fa spesso eh questo esempio che possiamo provare ad esempio mentre proviamo per una persona un sentimento profondo di amore di affetto possiamo e duraturo possiamo volta per volta nella vita quotidiana provare anche rabbia per questa persona farci intristire da alcune situazioni e questo amore però questo sentimento di base non cambia così è la gioia la gioia per come vorrei trattarla questa sera e mi pare di aver capito anche che la psicosintesi la vede da questo punto di vista è proprio come una specie di bordone interiore e quindi è a che fare con quello che noi chiamiamo il sentimento un sentimento ma ancora di più la gioia per me è proprio uno stato di coscienza cioè è un luogo in cui possiamo abitare eh nella nostra nel nostro vivere quotidiano perennemente è uno degli stati di coscienza che possono rimanere attivi mentre magari se ne se ne accavallano anche altri nella nostra nella nostra vita fino a che non diventeremo quell'uomo perfetto eh che alcuni eh hanno simboleggiano e in cui si mantiene l'attenzione interiore su questo stato di gioia costante e stasera brevemente vorrei parlare anche di neuroscienze della collegate alla gioia alla felicità alla gioia e di psicologia della gioia ovviamente ma cominciamo dalla psicosintesi per Assagioli la gioia è una saggezza speciale e si può parlare secondo me per quanto riguarda la psicosintesi in generale e quindi Assagioli proprio in particolare di una propria di una vera e propria cultura della gioia cioè noi possiamo fondare la nostra vita la nostra visione del mondo della psicologia eh e quindi la nostra cultura sulla gioia ehm perché dice Assagioli noi abbiamo una fonte di gioia uno spazio che contiene eh la gioia che è fonte della nostra gioia interiore che è sempre nostra di esplodizione è questo spazio supercosciente nella parte dell'inconscio superiore è vero che questo spazio supercosciente come tutte le parti inconsce dentro di noi va come si bisogna andare di incontro va conosciuto va attivato nella vita e va attivato nella vita quotidiana quindi ehm esiste una psicosintesi personale una psicosintesi transpersonale ma tutte e due sono molto terrene molto quotidiane chiamano il proprio l'uomo la donna la persona a una completezza del proprio essere una completezza che secondo Assagioli si può si può si può prendere come un punto di arrivo quindi è la come la vetta di una montagna verso la quale però possiamo eh possiamo incamminarci vi voglio leggere una una descrizione una formulazione breve della psicosintesi che ha fatto Assagioli in questi suoi foglietti che sono tracciati nell'archivio Assagioli c'è scritto in questo foglietto formulare una definizione breve chiara e incisiva della psicosintesi questo era un compito che si era dato che è scritto e sotto fa il compito Assagioli scrive la psicosintesi è la costruzione di una personalità armonica organica completa efficiente in cui sono eliminati i penosi dissidi in cui sono utilizzate appieno le immense energie subconscienti in cui la coscienza conquista la sfera di luce di gioia di potenza del supercosciente quindi è un uomo veramente a tutto tondo un essere umano a tutto tondo oggi come oggi quando dico uomo mi viene da dire no anche donna allora poi cambio formulo e metto la persona ma è giusto fare questi sforzi allora cosa dice eh quindi una personalità armonica organica completa efficiente completa mai fino in fondo perché noi sappiamo che c'è un dinamismo della coscienza quindi intorno all'io no una personalità intorno all'io in cui sono eliminati i penosi dissidi quindi qualche contrasto eh quello più penoso quelle nostre grandi incoerenze se abbiamo fatto una psicosintesi personale dovrebbero piano piano smussarsi eh in cui sono utilizzate al pieno dice le immense energie del subcosciente quindi tutto quello che è subconsciente l'incoscio inferiore medio superiore ma in particolar modo cita la gioia la luce e questo senso di potenza interiore che ci dà il contatto con questa parte superiore quindi l'energia del super crescente la la gioia questo super cosciente che cos'è diciamolo ancora in due parole per quanto possa essere possibile fare eh due parole una parte del nostro territorio interiore potete controllare il vostro microfono per favore allora ehm gli elementi del super cosciente quali sono le intuizioni le aspirazioni il senso estetico quello morale etico quelle esperienze religiose mistiche ma più laicamente spirituali di allargamento della nostra coscienza quelle che assaggiò nella psicosintesi considerano fatti psichici cioè elementi reali in senso pragmatico proprio perché dice sono reali perché sono efficaci quindi anche l'effetto che la gioia ha su di noi è efficace cioè produce dei cambiamenti sia all'interno di noi stessi sia nelle azioni che facciamo quindi anche nel mondo esterno quindi sono azioni che possono essere viste sperimentate l'azione che la gioia ha dentro di noi no con un metodo scientifico di osservazione altre frasi prese dalla psicosintesi la gioia è un'energia del super cosciente è un metodo per risvegliarsi alla coscienza spirituale che cos'è questa coscienza spirituale come potremmo chiamarla in altro modo è una è un modo diciamo così di autorealizzazione interiore cioè una realizzazione più piena di quella che è la bellezza della nostra vita della vita del senso di buona volontà del significato stesso della nostra vita della vita in generale quindi tanto più noi ci avviciniamo alla coscienza spirituale tanto più saremo in grado di avere queste esperienze nella nostra vita quotidiana che calano oppure noi ci eleviamo ci allarghiamo mi piace più l'aspetto dell'allargamento ad includere questi aspetti quindi è un metodo per risvegliare queste parti la gioia e poi dice è un fiore spirituale da coltivare altro verbo che ho sottolineato perché dove il verbo coltivare è presente ci vuole il contadino quindi è un giardiniere quindi vuol dire che è possibile attivare delle azioni fare qualcosa per coltivarla incrementarla supportarla dentro di noi questa gioia e addirittura viene considerata come l'opposto come una qualità da coltivare per poterci sostenere in quei momenti in cui invece c'è un altro aspetto quello più dell'ombra della tristezza di un aspetto più di paura e in un paragrafo ho trovato proprio questa questa idea di assagioli di che noi che gli esseri umani quando possono crescere quindi quando ne hanno la facoltà e tutti quanti ce l'abbiamo il microfono gli esseri umani non sono autorizzati a non essere gioiosi nella misura in cui riescono a esserlo poi lo vedremo meglio si parla spesso di di parti nostre che sono come dei vampiri della nostra gioia della nostra energia e lo sono per noi stessi e anche per gli altri una visione della gioia ancora un po alta poi pian piano vediamo di farla calare sempre di più nel nostro vivere comune è quella che la vede come un'energia naturale che esiste in noi e nell'universo eh per esempio nel nell'inno alla gioia scritto da Schiller ma musicato eh da Beethoven proprio l'inno alla gioia che c'è così vicino a noi europei eh le ulti l'ultima frase eh ve la leggo eccola qua dice gioia si chiama la forte molla che sta nella natura eterna gioia gioia aziona le ruote del grande meccanismo del mondo essa attrae fuori i fiori dalle gemme gli astri dal firmamento conduce le stelle nello spazio che il canocchiale dell'osservatore non vede quindi è come se fosse questa è questa vibrazione di base no quindi diciamo che vicino a quella eh quell'amore eh universale pare che ci vibri anche la gioia dovrebbe essere un bel posto dove abitare questo nostro universo nella psicosintesi la la un certo tipo di gioia e qui veniamo ancora un po' più vicini all'io è collegata anche alla all'attivazione della nostra volontà quindi la gioia anche Aristotele lo diceva è l'accompagnamento dell'atto perfetto a me vengono in mente certi sportivi mi vengono in mente eh certi danzatori mh certi artisti soprattutto ma l'atto perfetto in questo senso gioioso lo si può fare in qualunque momento eh anche riordinare una parte della nostra casa o fare con tutto il cuore un saluto a un amico può essere un atto perfetto eh è un atto di volontà che ci dà gioia che è una gioia che a volte si sente anche attraverso o dietro lo sforzo che non di rado dice Assagioli accompagna l'atto creativo e l'atto di volontà ecco gioia è la stessa cosa di felicità mi sono chiesta mentre preparavo questo eh questa conferenza ma io direi che ai fini del nostro del nostro lavoro di stasera li possiamo considerare dei sinonimi però ci possono essere anche eh delle delle scuole di pensiero che le dividono un pochino ne ho presa una tra le tante opinioni no poi sulla gioia sulla felicità che mi sembrava interessante eh anche se non mi vorrei fissare troppo sulla parte così semantica di queste parole ma più sul significato per esempio in alcune visioni si si può considerare la felicità come qualche cosa che è più collegata alla realizzazione di qualcosa quindi siamo felici di qualcosa o per qualcosa qualcosa che è un po' esterno a noi come se fosse un obiettivo raggiunto come se la felicità avesse un oggetto una causa degli obiettivi mentre la gioia è meno vincolata è meno legata alle cose alle condizioni eh è un po' come se fosse una gioia senza oggetto una sorta di luminosità di radiazione che abbiamo si esprime dall'interno di noi è una qualità che si riverbera anche all'esterno ma è più interiore è una esperienza comunque la gioia tanto è che vi dicevo qualche minuto fa eh ci sono delle delle ricerche proprio in quelle che si chiamano neurosciente affettive che studiano ehm le nostre emozioni come come si esprimono dal punto di vista eh del dell'attivazione del nostro sistema nervoso centrale quindi studiano il cervello in relazione alle nostre emozioni non soltanto il cervello anche il sistema nervoso eh periferico ma soprattutto quello centrale e e qui spesso si sente parlare di quel di qualche cosa che ovviamente si parte da da un'esistenza quella della delle emozioni della gioia che nessuno la sa proprio spiegare quindi si parla di qualche cosa che viene studiato nei suoi effetti ma nella sua essenza rimane un po' misterioso e anche nelle neuroscienze a volte si parla proprio di forza vitale come di una forza vitale che c'è che si esprime dentro di noi che assomiglia un po' anche come parola a quella che può essere considerata non so eh il prana il 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 ci o chi è come se fosse una una forza quasi biologica quella quella forza che si esprime eh nell'espressione stessa della vita dove eh quando nasciamo da un da uno spermatozoo da un ovocita e questo è un processo che è irreplicabile cioè si può si può replicare soltanto a partire dall'ovocita e dallo spermatozoo ma senza questa queste due elementi più uno slancio misteriosamente vitale gioiosamente vitale eh che crea questa energia questa luce eh non non ci sarebbe la vita e questa energia vitale come se fosse paragonata a volte una sorta di gioia biologica di base da questa cosa biologica eh si può passare anche a una visione un po' più psicologica eh seguendo questo aspetto delle neuroscienze che ora per un pochino vorrei seguire insieme a voi spostandoci tra la psicologia e e e le neuroscienze per esempio ci possiamo chiedere no che relazioni ho io con la vita ciascuno di noi si lo può chiedere quanto sento questo slancio vitale dentro di me quanto quanto io riesco anche a entrare in questo slancio della vita in questo flusso della vita vitale senza smarrirmi ma senza volerlo controllare quanto riesco a fare accadere la vita senza volerla controllare qui mi urge di fare una differenza tra lasciare accadere la vita e lasciarsi vivere mi voglio spiegare per me c'è una grande differenza tra lasciare che la vita vada come gli pare senza neanche accorgersi no cioè lasciare che la vita accada così senza quasi eh quasi come se fossimo indifferenti a quello che accade o peggio rassegnati tra questo lasciarsi vivere e invece lasciare che la vita accada per me c'è una differenza fondamentale è esserci o non esserci esserci nel lasciare accadere la vita vuol dire riconoscerla questa vita esserne consapevoli di noi e della vita stessa la vita vuole procedere e noi con la vita e nel preparare questo questa conferenza leggendo delle cose ascoltandone altre c'era un questo concetto che ho preso in considerazione ascoltando la conferenza eh di una persona che a me è piaciuta molto ha scritto questo questo libro curarsi con l'emozione eh la Erika Poli che mi è piaciuto molto e in una conferenza sulla gioia eh da un concetto che ho capito metteva in parole qualche cosa che anche io sento profondamente lo sento non sempre mi riesce di metterlo in pratica ma insomma intanto lo sento è come un po' un piccolo segreto no che quando siamo dentro la vita non sempre è importante cercare la causa delle cose che non ci piacciono che ci fanno stare in questo spazio più problematico che non lasciano non ci lasciano fare accadere la vita perché cercare la causa per me è sempre una cosa molto importante quindi cercare di capirla ma ci si può attaccare molto a questa analisi che anche Assaggioli diceva è importante che lasci spazio alla sintesi per poi tornare all'analisi ma che ci sia spesso una sintesi magari parziale di non incapponirsi troppo nel cercare la causa e questa molto a che fare con lo slancio vitale perché la vita va anche lasciata accadere superare le cose che intralciano una certa forza vitale come se superare fosse una parola d'ordine più più interessante per questo flusso vitale che non cercare la causa a tutti i costi mi viene da dire no e qui mi è venuta in mente un una frase un po' paradossale che mi fece tanto riflette dagli inizi del mio cammino interiore una persona che disse questo motto non cercare trova credo di averlo raccontato anche in altre conferenze perché per me fu veramente come uno svelamento no questo spazio che che divide il cercatore dal trovatore diciamo così dentro di noi perché chi trova che cosa fa attiva come un lasciare andare uno stare nel flusso è una parte intuitiva una parte di fiducia profonda nella vita qualcuno ce l'ha più radicata nella propria struttura psichica altri meno ma abbiamo detto prima è possibile coltivare questa possibilità e quindi si può fare la domanda che cosa vuole da me nella vita in che modo io posso seguire questo slancio vitale che noi abbiamo un po' collegato a questo aspetto basico della gioia della fiducia che ho messo accanto anche questa parola non è facile non è facile non soltanto perché magari non ci viene naturale ma anche perché in realtà non è una posizione come potrebbe sembrare gioiosa di slancio di lasciare andare perché se siamo in questa posizione del voler vivere la vita con questo slancio questo è un luogo dove noi la sentiamo la vita la sentiamo profondamente quindi sentiamo tutto quello che la vita ci porta questa gioia nello stare della vita ci porta come un fiume impetuoso anche i detriti le cose difficili di cui vorremmo forse fare anche a meno è come dire sentire la vita senza attaccarsi alle cose difficili ma vedere che scorrono che ci sono sentire con tutto lo voide quindi con tutte le nostre parti con le parti più difettuali con le parti più sociali con le parti più del super cosciente e non è detto che anche quelle non ci facciano star male anzi ci chiedono il significato ci chiedono una vita che valga la pena di essere vissuta come le parti in difficoltà del nostro inconscio inferiore e ci chiedono di portare con noi le nostre ferite di avere a che fare con le nostre reattività e quindi vivere con tutta questa potenza dell'ovoide accendere questa stella delle funzioni dentro di noi a pieno ritmo a tutta potenza però con la consapevolezza centrale stabili centrati è difficile ancora una volta mi vengono in mente certi danzatori no potenti forti con ritmo che e che sono a piena potenza ma stabili centrati difficile però bello però ecco se uno deve avere davanti è un'idea di che cosa può essere la vita certamente a me piace più questa che non quella un po' più grigia in quelle scatole in cui sappiamo cosa fare cerchiamo di non essere né troppo poco né troppo tanto e ci barcameniamo un po' la gioia la gioia interiore quindi possiamo immaginarla come una cosa leggera ma che ha un suono particolare e che non soltanto può andare di pari passo con questo slancio ma anche può stare in contatto con noi stessi noi possiamo essere in contatto anzi forse detta meglio anche quando siamo in situazioni difficili quindi come se questa gioia di cui parlo potesse essere vissuta come sovrapposta anche a delle situazioni difficili nella fisica quantistica si parla come di sovrapposizione di stati quantistici quel povero gatto di schredinger che può essere o morto o vivo non c'è ci sono varie possibilità che noi abbiamo sono tutte presenti e queste possibilità della nostra vita sono sovrapposte una all'altra sono tutte presenti e proprio questo non stare nel presente stare consapevole significa vedere tanti stati di coscienza in noi sovrapposti e siamo tutti noi per questo ci serve tanto avere un una o più mappe come ad esempio quella della psicosintesi non sono altre perché abbiamo delle vite su più livelli abbiamo come una sovrapposizione di potenziali però la gioia ci può aiutare a stare comodi nei luoghi scomodi della vita anche 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 qui vi cito una visione che ho sentito e che ho carpito per voi ve la porto stasera questa idea di come ad esempio tutti abbiamo visto probabilmente queste immagini nei documentari in alcune in alcune situazioni di bambini in zone di guerra che giocano tra le macerie tra le mine tra i detriti è come dire ecco c'è come una gioia dentro di noi che è come quella del bambino che sta in un luogo di guerra eppure gioca e gioca davvero eh non è che non gioca e non è che non è vero che c'è la guerra e non è che non è vero che c'è la distruzione o non è che non è vero che anche nella sua vita nella sua psiche c'è c'è l'uno e c'è morto è possibile l'una e l'altra cosa e perché questa gioia se è vero che è così e forse ognuno di noi può decidere se è vero o no è possibile sempre perché possiamo sentirla vive in quel luogo che ci collega la nostra natura più profonda più profonda o più alta di più per gli adulti ma anche per i bambini c'è una gioia nello stare con la verità di quello che c'è con la consapevolezza molte volte la sofferenza dei bambini quando si trovano a vivere situazioni brutte difficili ehm o un po' conflittuali una parte della sofferenza è quella di non di sentire che c'è qualcosa che non va ma di non avere degli adulti che glielo dicono che è vero che c'è qualcosa che non va nella situazione in lui e che però questo non vuol dire che non si può vivere che non si può andare avanti che non ci si può voler bene che non si può costruire ecco stare con la verità di quello che c'è è un duro lavoro ma è stare con è l'unico modo di poter andare avanti portandosi dietro con gioia un fardello eh la verità per i bambini è importante lo è naturalmente anche per per gli adulti perché ha a che fare con l'autenticità no un adulto quando è autentico eh aiuta il bambino a a superare le prove no un po' come anche nelle nelle fiabe così insomma è molto difficile che le fiabe non mettano di fronte una storia qualunque non metta di fronte a dei conflitti e al modo in cui i protagonisti li superano è molto raro che una storia interessante dica erano tutti belli erano tutti bravi stavano tutti molto bene stavano insieme in allegria punto e te lo dice per tante tante pagine no ci deve essere qualche cosa che spinge eh a questa alla storia no a questa proprio a questa vita che si che si palesa eh nelle sue prove nelle sue resistenze nelle sue gioie nelle sue difficoltà e si può dire che questa che avere la gioia dentro di noi questa capacità di di stare eh in un certo modo nella vita fa un po' la differenza tra l'esistenza eh e la resistenza quando esisto nella vita e quando resisto eh o quando riesco a fare tutte e due le cose contemporaneamente ma ho anche questo flusso che mi accompagna è come dire vivere o sopravvivere no ci sono persone che sono sempre in uno stato di sopravvivenza anche quando non gli succede niente di particolare eh altre persone eh agli estremi non prendiamo gli estremi poi sappiamo che in realtà siamo tutti un po' mescolati eh tra l'una e l'altra cosa all'estremo ci sono persone che anche quando sono in grandi difficoltà eh si si sente che che stanno proprio vivendo non sopravvivendo ehm e quindi possiamo accostare come io ho provato ad accostare delle parole alla gioia e così mi viene come una narrazione no eh certamente le parole più eh più facili da accostare alla gioia sono la meraviglia la bellezza eh questa sorta di 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 visione anche dell'antica saggezza che metteva proprio la gioia la bellezza la bontà la verità tutte insieme in questo eh mondo delle idee meraviglioso a cui noi dobbiamo possiamo e forse anche un po' sappiamo tendere però è anche interessante per me mettere la gioia vicino a parole più difficili per esempio l'incertezza che però può essere una parola interessante da legare può sorprendere forse questo binomio no? Un po' quello che dicevamo prima siamo in grado di lasciarci andare e accettare l'impermanenza e l'incertezza della vita? Io da questa domanda me la faccio e chi mi conosce bene lo sa che la mia risposta è mica tanto sono in grado insomma non tanto a fasi alterne diciamo così no? Non voglio commenti che nessuno osi aprire il microfono e commentare però a me piace questa questa visione che mi spinge a a a farmi i muscoli no? Su questa accettazione meglio eh Marco meglio dire accoglienza ultimamente stiamo trasportando la parola accoglienza laddove prima dicevamo accettazione perché accogliere è ancora una cosa diversa è più rotonda quindi accogliere l'incertezza accogliere l'impermanenza eh questo ci potrebbe aiutare a non pensare se vado bene o se vado male perché se noi accettiamo che c'è una certa incertezza allora la mia vita non posso dire che va bene o che va male posso dire che accadono delle cose che posso superare che posso onorare la mia vita vivendola e vivendola appieno dentro quello che sta accadendo e questo anche quando ci avviciniamo siamo immersi in delle situazioni di dolore perché quella gioia che è uno stato che si sovrappone anche agli altri si può sovrapporre anche al dolore perché nella vita le cose brutte non si possono evitare un po' come le rughe no hai voglia hai voglia a meno che non ci siano degli artifici ma insomma che non si sa non si sa bene se è meglio il toppon del buso come si dice no delle volte si usano degli artifici che non sono non sono molto eleganti diciamoci la verità e quindi non si può evitare non si possono evitare quelle cose brutte come l'insuccesso il fallimento sono parti integranti della vita le paure se vogliamo tirar fuori tutte quelle altre emozioni che non sono la gioia le rabbie le tristezze e quindi il viverle il dolore e il contatto con le so con le sofferenze fa parte di questa onda ma che cos'è che fa veramente più male di tutto è questa identificazione nella sofferenza non il fatto di sentirle di riconoscerla perché se c'è ma è identificarsi e qui il difenderci da questa che ci dà un blocco i psicologi lo sanno quello che fa star male che blocca il flusso è proprio sono le difese cioè quelle cose che ci hanno aiutato all'inizio a superare delle avversità poi diventano i blocchi essi stessi diventano quei muri che prima ci hanno nascosto il pericolo poi ci nascondono proprio la vita diventano muri che vanno superati o abbattuti e però non abbiamo una cultura diciamo qua in occidente che ci aiuta molto oggi a fare questo a imparare a superare e a non difenderci dalle cose difficili ma ad accettarle la più difficile di tutte è la morte no ma la morte non è soltanto la cessazione della vita alla fine del nostro percorso terreno la morte è qualche cosa che che accade di continuo tante cose finiscono e finiscono muoiono ed è necessario questo per una trasformazione e qui è normale che che abbiamo paura e che abbiamo timore che la gioia sia difficile da portarci dietro in questi momenti infatti ci vogliono dei supporti degli aiuti e chi ce li ha degli amici delle persone delle situazioni la psicosintesi anche fa bene a tenerla ben salda un supporto di questo tipo perché non è facile non è una cultura programmata per fare questo aiuto per è più programmata la nostra cultura per andare per risolvere per dare il consiglio per dare la cosa no per dire no ma bisogna essere positivi ma a volte non bisogna essere positivi bisogna vedere le difficoltà che ci sono e non farsi abbattere affrontarle a accettarle non subito volerle risolvere una parte dell'accoglienza dello stare con è proprio stare lì e starci magari in silenzio noi e gli altri stare proprio dentro le cose che non ci piacciono che ci fanno star male perché nel silenzio nello stare centrati possa emergere o discendere questo stato di coscienza che è questa gioia di cui si parlava prima e forse a volte si può riconoscere che il dolore non viene a farci male non solo almeno no ma ci può innescare a innescare anche quello slancio vitale quella vita il dinamismo abbiamo detto prima delle fiabe ma tanti di noi sono stati in contatto o essi stessi sono stati in contatto con persone ammalate o in grave difficoltà o lo sono state ammalate in grave difficoltà e tanti di noi hanno visto da dentro o negli occhi degli altri emergere una particolare gioia proprio nei momenti di più grande dolore o difficoltà diciamo che un'altra domanda che ci possiamo fare è so soffrire cioè soffro bene o soffro male quando sono nel dolore io spesso molto male ma studio e penso di imparare penso che è possibile imparare con questa cosa di base questa fiducia gioiosa di base ce l'ho il problema è soffri bene o soffri male lo accogli questo questo dolore ma non con gioia nel senso che sì datemi un'altra croce anche se un certo modo eh di vedere anche la sofferenza come proprio un uno spazio di purificazione è interessante anche la gioia è una purificazione perché perché è quella che sta dentro quel dolore lì non la sofferenza per la sofferenza no e accorgersi di un altro strato che c'è sopra o che c'è sotto lo accogliamo eh Victor Frank ci parlava di questa differenza che c'è tra quelli che soccombevano nei campi di concentramento e quelli che senza nessun'altra differenza avevano uno slancio vitale una capacità di gioia di accettazione scusate se ve le metto insieme queste due parole ma stasera lo voglio fare a proposito e che e che sopravvivevano di più o meglio quindi sono capace di essere frustrato di soffrire o invece continuamente rimugino mi blocco sto lì e rimugino vado a cercare le cause poi scavo ancora di più e mi provoco sempre di più un'irritazione fino a coltivare un altro sentimento che non è la gioia ma è l'odio il rancore che lungo lungo dura lungo un conto è la rabbia che va là con fiammate ma quando continuiamo a coltivare certe cose poi si radicano pure quelle quindi sono in grado di stare lì senza voler risolvere il problema senza spostarmi stare ecco qui mi viene da dire che stiamo un po dicendo anche una cosa che non tutto il dolore viene per nuocere e questo va un pochino contro anche a quella visione che forse la gioia come argomento ci poteva portare no la psicologia positiva che bisogna sempre guardare solo il meglio che bisogna darsi una forza e questo certo che è vero la gioia come spazio del nostro mondo superiore è sempre questa vibrazione che ci accompagna ma non deve coprire anche le altre cose che ci sono non esageriamo con troppa positività nella vita perché potrà sembrare strano ma pure questa energia sempre troppo allegra gioiosa ci fa star male ci ci sposta da una realtà da una verità no si diceva prima una visione positiva della vita ci ci facilita poi magari due parole diciamo ancora il funzionamento mentale ma diciamo quell'eccesso un po cronico di ottimismo quell'euforia continua è un po sospetta e può portarci anche a sviluppare un falso se dei sentimenti dei pensieri anche irrealistici oppure anche ad accettare delle sfide eccessive perché non abbiamo un po' la consapevolezza di chi siamo dei nostri limiti delle nostre possibilità delle nostre potenzialità un altro paio di cose che vi voglio dire sempre a proposito della delle neuroscienze c'è una parte delle neuroscienze che si interessa di neuroestetica questa mi è piaciuta tantissimo perché quando si parla delle cose positive che ci fanno star bene che ci fanno sentire gioiose per esempio quello che per noi è bello e che ci fa sentire bene eh che cosa fa questa questa la visione per esempio di qualcosa che ci piace un'opera d'arte una persona quando siamo innamorati di qualcosa nel nostro nel nostro sistema nervoso centrale si attivano gli stessi circuiti eh che eh del piacere della ricompensa quando noi cioè veniamo accarezzati siamo ricompensati di qualcosa siamo soddisfatti o quando siamo innamorati o quando siamo gioiosi davanti alla bellezza e alla e a quello che ci riempie di gioia il nostro cervello funziona nello stesso modo bella questa cosa mi è sembrata bella tra le belle questa cosa eh ecco quindi questa capacità di accettare di accettare di innamorarsi gioiosamente di questa vita misteriosa che anche negli aspetti più difficili eh ci si presenta e ci chiede di essere vissuta la gioia proprio è raccogliere anche questa sfida che a volte la vita ci porta e farlo anche con una saggezza speciale diceva Sagioli che a me fa venire in mente una sorta di quiete profonda silenzio un entusiasmo silenzioso e quieto eh ecco il silenzio è un'altra cosa che spesso attiva la gioia se stiamo anche in questo momento facciamo proprio dieci secondi di silenzio ma veramente silenzio anche nella mente eh proviamo a stare fermi in silenzio dentro e fuori non pensiamo io ogni volta che faccio questi dieci secondi che me lo ricordo poi magari mi ricordo anche di respirare così è rarissimo che che io trovo dieci secondi veramente di grossa sofferenza ora stasera non me l'aspettavo proprio di trovare sofferenza perché sono contenta di star qui con voi c'è questo argomento ma non fare nulla questo ecco già mi si abbassa sempre un po' il tono della voce torna una voce che un amico dice questa è veramente la tua perché si vede che mi sforzo e vado sopra di tono in genere e è bello mi sembra che il mio cervello esulti un pochino ogni tanto in questo e tra l'altro ecco diciamo che queste emozioni positive la gioia in particolare ehm lo ridetto lo dico lo ridico ancora sono possibili da coltivare per tutti chiunque può diventare più gioioso e e perché no possiamo trovare il modo di fare degli esercizi per sviluppare questa capacità eh ad esempio c'è una piccola tecnica che si chiamano tecniche quando poi uno dà un titolo a una cosa che si è sempre fatta no che si chiama eh tre benedizioni e cioè una tecnica che consiste in questo nello scrivere o nel pensare alla sera prima di dormire a tre cose ci si obbliga diciamo così ci si obbliga gentilmente a fare mente locale su tre cose tre eventi tre cose belle eh o buone che sono eh accadute nel giorno che è appena trascorso allo scopo di coltivare la gratitudine che la gratitudine è un gancio verso la gioia e anche al benessere interiore fortissimo si accendono un sacco di circuiti interessanti ma noi provando gratitudine come come provando il perdono attiviamo in noi questa eh questa eh questa eh parte delle nostre della nostra mente che poi eh è collegata con quella che è la secrezione di alcuni tipi di ormoni la serotonina per esempio che ci fanno star bene infatti si chiama proprio la neuroscienza della felicità e sono studiati eh questi stati mentali che sono associati alla gioia e e si è visto che ci sono veramente delle correlazioni con il benessere e è stato dimostrato che le nostre esperienze eh rimodellano il nostro cervello cioè questa voi conoscete forse questa ehm parola che è la neuroplasticità quindi noi rimodelliamo proprio il modo in cui utilizziamo il cervello e possono cambiare il nostro sistema nervoso e questo chiaramente funziona sia nelle nelle esperienze positive che in quelle negative ma concentriamoci su quelle positive no? Ehm è una plasticità mentale che ci che veramente dà l'idea come diceva Sagioli che la gioia eh può essere coltivata e ci aiuta anche a mantenere queste queste emozioni positive sono dei benefici che ci portano a livello anche fisico e sono ben documentati migliorano la salute fisica è stato dimostrato che le emozioni positive migliorano la salute fisica alimentano una fiducia anche nelle relazioni sociali la compassione verso gli altri e verso noi stessi e possono essere proprio anche delle persone che tendono un po' alla tristezza un po' anche un aspetto depressivo quando possono se coltivano l'altra parte la attenuano questi sintomi si parla tanto di stress ecco diciamo che questo stress cronico viene un po' diciamo ehm scalzato viene da dire combattuto ma insomma un po' spostato dal dal da questa coltivazione degli effetti degli stati d'animo positivi eh e anche si studiano delle attivazioni di alcune aree del cervello che sono correlate al mantenimento di queste emozioni e ricompense positive perché qualcuno di noi eh in modo naturale eh una volta accesa una parte del sistema nervoso centrale correlate al benessere la mantiene accesa altri hanno bisogno di tornare ad accendere l'interruttore ma questo lo si lo si eh cambia questo meccanismo mano a mano un po' come la meditazione no? Un po' difficile all'inizio stare lì ad ascoltare il nostro respiro a spostare l'attenzione dai pensieri che vorrebbero carpire la nostra eh la nostra attenzione alle nostre emozioni e stare lì in silenzio ma mano a mano che noi ci facciamo questi muscoli proprio dell'attenzione sarà sempre più facile così anche stare in contatto con questo aspetto gioioso ecco vediamo un po' che cos'altro vorrei fare vorrei fare dei piccoli esercizi con voi uno almeno uno o due lo iniziamo con uno allora come si fa a essere gioiosi? Innanzitutto prima di tutto vediamo cosa vuol dire per noi essere gioiosi quindi prendete carta e penna se non ce l'avete allungato una mano che nei dintorni ci dovrebbe essere qualcosa e così in in due minuti veramente due ehm fate una lista di cose questi sono piccoli esercizi per voi eh non c'è bisogno poi né di condividere né niente e scrivete quali sono le cose che vi rendono felici ma gioiosi ma anche basta sereni basta eh un po' contenti rilassati cioè qualunque cosa sia della famiglia della gioia quindi che abbia un volume basso o un volume altissimo va bene tutto un elenco di cose senza pensarci eh tanto sono solo per voi un paio di minuti vai andate scrivete scriviamo grazie beh qualunque cosa sia venuto fuori queste sono liste che possono essere assolutamente allungate quando volete spero che qualcosa vi sia vi sia venuto fuori ecco per esempio essere consapevoli di quello che ci fa star bene è una parte importante da non sottovalutare perché una parte della nostra capacità di coltivare la gioia è collegata alla conoscenza di noi quali sono le cose che ci piace che ci piace fare quali sono quelle cose in cui io mi sento a mio agio tranquillo felice gioioso la conoscenza di me e di quali sono quelle situazioni che provocano la mia gioia è importantissima e poi forse scrivendo la lista vi sarete resi conto di una cosa che spesso essere gioiosi non dipende solo da quello che accade ma da la concezione che abbiamo del mondo e della vita quindi qual è la nostra concezione del mondo se noi pensavo che il mondo è fatto da esseri umani che sono inadatti a vivere l'uno con l'altro che ognuno vuol fare le scarpe all'altro che se questa è la nostra concezione del mondo non che è ovvio lo vedo anche io tutti lo vediamo che questo accade ma accadono tantissime cose strati sovrapposti se noi pensiamo che il mondo è una cosa negativa ci si paleserà in questo modo è proprio in psicologia si chiama proprio la la profezia che si auto avvera se noi abbiamo gli occhiali di certo colore vedremo tutto il mondo in quella maniera no quindi per essere gioiosi tra l'altro non è necessario che sempre tutto vada bene ma qual è la nostra concezione di base quali sono i criteri con cui noi indaghiamo la vita al di là delle ombre che vediamo riusciamo proprio a percepire che c'è qualche cosa che fa parte anche del nostro modo di interpretarla o no in questo modo potremmo capire quanto c'è facile o difficile dare attenzione al bello della vita sapete che c'è una tecnica della psicosintesi che proprio è spostare l'attenzione da quello che ci mette in difficoltà ma dopo che io l'ho accolto l'ho conosciuto sposto l'attenzione e lo posso sempre fare in modo da poter assorbire non soltanto quello che io vedo di negativo ma anche qualche cosa che sta dietro a quello che sta accadendo che a volte è qualche cosa che è più profondamente significativo e bello e buono un'altra tecnica per coltivare la gioia questa volta non vi do il tempo ma vi dico il titolo dell'elenco da fare e così mentre parlo magari ci pensate chi sono le persone della nostra vita che voi percepite come persone per voi positive che vi danno gioia che vi fanno sentire non so questa vibrazione questa luce sapere chi sono le persone che sono importanti delle quali possiamo coltivare un'amicizia perché sono persone per noi positive è un modo di cambiare anche delle volte una visione del mondo perché la si fa il cambiamento anche la visione del mondo che abbiamo in genere non è che ci siamo nati ce la siamo creata soprattutto c'è stata inculcata dai nostri genitori dalla nostra educazione dalle nostre esperienze e quindi così come è arrivata si può anche cambiare si può cambiare possiamo coltivare mettersi proprio vicino a qualcuno che ci contagia di gioia questi tempi sappiamo quanto è facile il contagio è mai facile anche contagiare la gioia nell'altro ecco quindi sapere ma queste persone possono essere persone che sono vicine a noi ma che non abbiamo mai conosciuto a me per esempio alcuni filosofi greci che non ho mai conosciuto mi hanno fatto un gran bene persone anche problematiche artisti anche un po' però a me mi hanno fatto mi hanno fatto toccare la gioia profonda della profondità della vita io non li ho mai inconosciuti qualcuno qualcuno che mi ha dato gioia non esiste neanche perché magari sono dei personaggi li parlavo l'altro giorno con dei ragazzi sono venuti fuori un sacco di supereroi della Marvel ma tutti aveva il suo in particolare che gli davano questo senso di gioia di energia di giustizia che ne so io quindi possono essere anche proprio personaggi mai incontrati meglio ancora se sono personaggi reali o meraviglia se sono anche amici o persone vicine a noi però ricordiamoci diamo a quella persona anche interiormente questo compito di rappresentarci la gioia e io qui vi lascerei con un'ultima piccola cosa un'altra cosa da coltivare è la gratitudine ve l'ho già detto quindi a chi o a che cosa siamo grati questa è una cosa importante perché essere gioiosi è importante perché prima di tutto così non siamo possiamo meno coltivatori del suo opposto che ci viene così spontaneo nella vita no perché tutti vediamo che lo fanno coltivano in certa dose di rancore di preoccupazione di frustrazione di rabbia di stress poi quell'altra musica di ansia ecco e noi proviamo intanto che proviamo proveremo queste cose che fanno parte dell'umano come tutti però proviamo anche a essere un po' egoisti e irresponsabili proviamo a essere felici che in questo modo potremo trovare anche un po' di più il nostro daimon interiore no quello che veramente sono le nostre qualità è quello che siamo venuti veramente a fare qui sulla terra e questo non può che passare da una sempre maggiore conoscenza di noi stessi quindi a proposito di gioia ricordiamocene prima di tutto riportiamola qui al cuore ricordiamocene ecco io qui ho finito la mia carrellata e quindi chiudo qui questa questa conferenza grazie dell'ascolto